buonasera questa volta l'abbiamo siamo riusciti a fare un qualcosa di speciale avrà i suoi pro esso e contro il pro è che per noi pescatori siamo in un posto quasi in libato in libato per noi come per gli altri quindi la sessione di pesca sarà un gran punto interrogativo cioè andare in un posto dove non si è mai stati si può trovare un qualcosa di veramente sorprendente come ci possono volere delle ore non venire a capo mi accompagna in questa avventura Federico e Giovanni della proprietà Scalfati siamo ospite di loro e vorrei che tu Giovanni ci spiegassi questo bel posto da vivere con la natura ma certo beh in questo momento noi ci troviamo proprio al confine tra il Martirreno e il lago di Paola e qui dietro di noi abbiamo il canale principale che mette proprio per la tutta in collegamento il più meridionale dei quattro laghi pontini quanti anni ha? questo canale è abbastanza vecchiotto diciamo che il primo scavo risale a circa 2000 anni fa poi vi porterò a vedere la muratura originale ancora presente la canaletta invece la seconda biforcazione è più recente parliamo diciamo di un periodo intorno al 1720 comunque un luogo incredibile che rende per la prima volta questi stagni di acqua dolci delle vere e proprie valle da pesca salmastre gli stessi romani 2000 anni fa decidono di accedere all'interno del lago di Paola non solo per raggiungere la villa dell'imperatore Domiziano che era stata edificata proprio sulle sponde del lago ma anche per avviare una vera e propria valle da pesca fatte di pesca sul lago e di peschiere a terra che erano delle vere e proprie opere d'ingegno dei romani che già 2000 anni fa quindi conoscevano la qualità della spigola che ancora oggi noi se siamo fortunati riusciamo a catturare ora indipendentemente dalla straordinarietà dell'evento perché abbiamo dovuto chiedere diverse autorizzazioni qui la pesca non è praticabile Giovanni ha delle idee però ancora sono diciamo premature beh sì sono un fortunato perché chi lavora alle ferrovie ha un piccolo sconto per prendere il treno io posso conoscere delle persone eccezionali per il mio sport che mi danno questa possibilità a Giovanni invece vorrei chiedere questo tratto qui subisce, senti le maree che vengono sentite? assolutamente ed è la suggestione incredibile nelle 6 ore e 12 minuti in cui abbiamo l'alta marea l'acqua del mare entra all'interno del bacino e schiarisce questi canali rendendoli un vero e proprio paradiso dove poter anche nuotare e potersi rinfrescare in un'acqua limpidissima in questo momento ci troviamo in una condizione di bassa marea che potrebbe favorire la nostra azione di pesca e l'acqua inevitabilmente è verde e in questo momento esce dal lago verso il mare ho visto passare persone con il windsurf, ho visto passare persone, ci sono cavalli ci sono, beh principalmente questa è un'azienda che poi da azienda vallicola che si è sempre occupata della pesca e dell'allamento dei molluschi si è necessariamente un po' trasformata, ha aperto ad alcune attività turistiche e principalmente rispetto alle attività escursionistiche parliamo chiaramente di attività in acqua, quindi di escursioni in kayak ma non solo, anche di pesca in kayak chiaramente quindi è possibile uscire con il proprio kayak dal canale romano e andare a fare ad esempio la traina intorno al fronte all'eggi abbiamo kayak? non credo, non l'abbiamo portata e allora oggi rimaniamo a terra, oggi rimaniamo a terra quindi per una famiglia che vuole passare un bel fine settimana ci sono gli alloggi, ci sono le attività e quindi c'è un'ombra deliziosa perché in questi giorni di caldo è un qualche cosa di stressante assolutamente, diventa una piccola osi a due passi da una grande città come è quella di Roma e quindi ce la godiamo oggi insieme bene, andiamo a vedere quello che succede ah, non ho chiesto a Federico in un posto dove non siamo mai stati a pescare il primo approccio qual è? il primo approccio, quello che pensavo io è andare a misurare il fondo e capire un attimino la forza della corrente in base a quello andare a stabilire quale linea di pesca fare quale grammatura e soprattutto che tipo di piombatura adattare a questo tipo di canale pesci, orate? orate, spigole cefali, uno l'ho visto cefali, diversi tipi di cefali chiaramente qualche sarago io avevo visto come no ma pensate all'interno del bacio noi troviamo tranquillamente sogliole quindi c'è di tutto c'è di tutto il pesce entra naturalmente dal mare cioè, Dio dall'alto ha buttato un bacio qui ha fatto bello, bello, bello speriamo che qualcosa ci tocchi anche a noi speriamo che i romani abbiano lasciato qualcosa per noi andiamo guarda Fede io da Colmi ci ho portato questo praticamente io vedo bene questo galleggiantino qui per la trattenuta perché l'acqua va ho notato che le antenne sono un po' piccole perché è una Micro Starlight di 2,2 allora mi sono portato delle antenne cave cave io userei un grammetto te che dici? che potrebbe andare bene forse ho paura che l'acqua si comincia a correre poi non la teniamo più perché i nostri piombatini ho paura che siano troppo leggeri con 0,75 quando si arriva su 5 metri si vola come così sui nuovi mulinelli useremo il Fendrill il Fendrill so che lo conoscete ma come vedete abbiamo cambiato la confezione questo sta a indicare che il filo è rimasto lo stesso ma il trattamento chimico è cambiato questo trattamento chimico consente al filo a essere più fluido nella fuoriuscita del mulinello e nello scorrimento degli anelli non si assorbirà il problema dei nylon che a volte si impregna d'acqua si affonda e si forma quella noiosa ansa durante le passate poi immagino che questo bagno chimico che abbiamo fatto protegge anche il filo della corrosione giusto? siamo in mare la salsedine è bella per tante cose ma indubbiamente sia per i nylon che per i mulinelli serve sempre una protezione è un po' il silicone che spruzziamo sui mulinelli per la madre lenza usiamo l'F1 Spyder è un filo che nasce solo per in misure dal 9 fino al 20 serve solo per fare le madre lenza per finale il mitico vecchio ma intramontabile riverge il colpo quello verde nella sua comoda confezione faccio un finalotto di 40 50 cm e siamo a posto sto legando un B900 del 18 poi vedremo se cambiare gli ormeggi speriamo anche se è sbagliato partire fini sarebbe meglio partire più grossi tanto quello bello mangia subito ora ho trovato questo posticino al ridosso del ponte dove si crea una sorta di vortice presumo che tirando i bigatti a monte del vortice poi ritornino in corrente e io sto lasciando il galleggiante in modo che si trovi perfettamente nella scia del allora io posso un pesce stare lì però abbiamo preso il primo pescetto della giornata non è grande da come fa è un saraghetto eccolo lo slamiamo e lo rilasciamo subito in acqua un po' più piccino ma un po' più grosso ma la taglia è questa ce n'è una nuvola qui sotto rilega l'amo credevo che fosse più grossa però dai almeno cominciamo con la prima spicola eccola qui la ributtiamo in acqua perché ancora merita questo merita la gomme amo come diceva prima Gianluca stiamo utilizzando un B900 del 18 ora vi faccio vedere come stiamo innescando in questo momento sto pescando con due bigattini appuntati perché è un innesco molto mobile come vedete molto catturante ora proviamo a vedere se le spigole ci danno ragione altro giro altro pesce adesso sembra che siano entrati in pastura i pesci sempre bei pesciotti non enormi però insomma ti diverti ecco la stiamo portando al guadino la rilasciamo anche questa e via bella come pesca comunque ragazzi si è impassata così mangiate veloci sulla fiondata del bigattino davvero una bella pescata anche se non sono pesci ancora molto grandi ma è divertentissimo come quella di anzi senti si era fissato un chilo un chilo e mezzo e un chilo e mezzo un chilo e mezzo dai pesci sono piccolino ma divertente la pesca è veramente bella la pesca è veramente bellina perché ci sono due metri scarsi di acqua e l'acqua va in un senso sembra di pescare in sieve in arno dove c'è poca acqua ancora la luce è molto alta e fino a ora poi sono passate canoie barchette e non è niente a nostro favore ma è divertentissimo una pescata in questa maniera è veramente divertente la pesca è un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un'altra spigolotta, sempre a fine passata. Sono sceso con il filo, ho messo lo 010 e l'amo del 20, del B900 sempre. E' un backshot. Ecco qui. Alla prossima. Alla prossima. Sta diventando divertente. Questa è sicuramente da riputtare. Questa sembra più bella perché si muove più lentamente rispetto alle altre e di solito è un comportamento dei pesci un pochino più belli. Siamo con lo 010 del Sicol, ma pur sempre lo 010. E' un bel pesciotto, sì. Andiamo e poi la facciamo vedere. Davvero un bel pesce. Guardate che passata meravigliosa. Adesso va lentissima proprio. Andiamo appena a due bigattini, ma due di numero proprio. Mangiato ancora un altro pesciotto. Adesso ho cambiato innesco. Sto pescando con un bigattino innescato per il centro e va molto meglio adesso. Comunque non sono spigole piccole, sono pesci di media taglia che sono assolutamente combattivi in quest'acqua. Sarà sicuramente un'acqua, come diceva prima, Giovanni Cristallino e quindi i pesci sono ben ossigenati. La marea sta salendo. Si è fermata l'acqua e i pesci stanno rispondendo molto più voracemente di prima. non sono grossi pesci. La spigola più grossa è stata di mezzo chilo, 600 grammi. Ne ho lasciate in acqua un paio, ma perché peschiamo con i fili dell'8, del 9, del 10, ami del 18, del 20. Io con la Royal, con la Royal 100, che è una canna che ti permette di sbagliare poco, perché accondiscente sempre alle ripartenze del pesce, ti permette di usare sicuramente una misura in meno di finale. Ho provato il Chiger, il nuovo Molinello, mi piace, ha una frizione come voglio io. Quindi io la tarro all'inizio pescata sull'8, sul 9 e sul 10 e non la ritocco più. Speriamo ora nell'ultimo pesce della notte perché non possiamo rimanere a buio. Ci aspetta uno spaghetto alle vongole. bella grassa tu sei. lo sarebbe oppure che io fosse più piccina. Senza guadino non è una gran cosa, io ve lo dico montatelo sempre. Non fate come me che sono superstizioso, non lo monto mai, gli altri sono lontani. come vedete è sceso la notte avevamo promesso che avremmo smesso prima e niente è stata veramente una bella serata di bel pomeriggio di mezzo agosto ci siamo siamo divertiti perché abbiamo usato canne molto molto paraboliche fili fini ami piccoli come sapete piace a me galleggianti da un grammo tutte spallinate e quindi sono sortiti fuori due o tre pesci più interessanti sul mezzo chilo abbiamo lasciato in acqua un paio di pesci e niente ora non possiamo che ringraziare innanzitutto il buon Gino Gino Anastasia il presidente del Circeo Fishing Club che oltre a essere mio grande amico ha creato il contatto per poter venire in questa bellissima tenuta ringrazio Federico che ci accompagna ormai da qualche uscita in qualche bel firmato vedrete ringrazio mia moglie che ha avuto la pazienza di stare qui con noi in piena natura perché cavalli nutri e insomma non è che sia sacrificata vi do un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima ciao ciao